Da questa esperienza mi aspetto di conoscere persone nuove, imparare tante cose interessanti che mi possano servire poi in futuro per il mio lavoro. Bene, bene, è stato bello, loro sono carinissimi, sono disponibili, ti mettono a tuo agio tranquillamente, insomma, è stato bello, sì, una bella esperienza. E' stato emozionante, che emozioni hai provato? Sì, è stato emozionante sicuramente, non vedevo l'ora di fare questo casting, infatti è stato proprio come me lo aspettavo. E la scelta della modella e la preparazione come si riguarda? La scelta della modella è andata benissimo, l'ho trovata subito, abbiamo trovato subito l'abito adatto, insomma, tutto perfetto, ecco sì. E la settimana di formazione com'è stata? La settimana di formazione è anche questa, interessantissima, loro sono veramente bravi e spero di, insomma, poter andare avanti e fare ancora di più. Cosa ti porti a casa dopo questa esperienza? Ma allora ho conosciuto delle persone anche sulla nave, compagni di questa avventura, insomma, è stato tutto molto molto bello, interessante, tante cose nuove da raccontare anche, insomma, le mie collaboratrici. Adesso che hai finito, come ti senti? Ah, soddisfatta, soddisfatta, non vedevo l'ora di questo momento.